musica 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 oh my god ragazzi wow wow ok basta allora perchè ho una videocamera a questa altezza boost perchè sto organizzando un prank da fare al mio cameraman preferito anche detto simone cargiuli e al mio boss napoletano anche detto boss napoletano vi sto dicendo loro stanno venendo qui a casa perchè era da programma che noi dovessimo registrare dei video però loro non sanno che sto facendo un prank epico finito male come potete vedere la camera è posizionata dietro il gufo quindi così il gufo sarà davanti ok si vede il luogo del crimine che sarebbe questo qua proprio cammino 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 ero finta di morire e in poche parole io sbatterò la testa su quell'angolino che tanto è molto pericoloso e sbatterò la testa cascherò poi verranno loro che dovrebbero venire quindi cascherò per terra metterò il sangue che è proprio questo sangue preso da 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 un muro cioè abbiamo ucciso il muro e abbiamo prelevato il suo sangue andremo a mettere questo in testa tipo qui e un po' per terra da far sembrare il tutto più reale possibile poi appena verranno e lo qual è lo scopo del prank? che io non mi ricordo niente ho perso totalmente la memoria quindi loro mi diranno Simo che hai fatto io? chi siete voi? chi siete? chi siete voi? chi siete voi? no chi sei tu? dove siamo? sembro molto oggi ok andiamoci a trasferire in the bedroom si dice bedroom ok perchè non vogliamo sporcare tutto adesso andremo a metterci il sangue in testa questo penso è un prank della madonna oh mio dio raga oh mio dio è sacco vero ed io ho un po' troppo ora adesso cosa è pericoloso raga aiuto 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 sto per morire oh oddio stupendo bellissima stupendo bellissima io direi un'altra spruzzatina tipo qua no sui mani difficile allora raga abbiamo fatto cioè ho fatto guardate qui che roba pare vero cioè guardate pure le mani niente ora mi darò una sciacquata manco si leva sto coso cioè ci vediamo fra un po' buona visione wow a few moments later a few moments later adesso stai più oltre simone quanto sangue siamo l'ambulanza chiedi tanto siamo al 118 chiamo i servizi di emergenza simone simone un po' se 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 simone aspetta schifo vieni qua avvicinati che mi fai pulire oh guarda il bordello dove va ma come ti siedi ti siedi che caschi ti siedi che perdi sensi così guarda il sangue che schifo come hai fatto come hai fatto dai calma chi sei? come chi sei? si è pizze sono simone ti fai pulire? chi sei? mi fai pulire? mi fai pulire? ma questo è stupido chi siete? si è pizze ma questo è stupido che ti ha dato mi fai vedere che devo chiamare l'ambulanza così oh che stai a fare? ti fermi un attimo dove sto? come dove stai? stai a casa? che sei stupido ti siedi per favore? guarda guarda se sei ritardato a pezzo chi è lui? ma come hai chiesto? guarda un pochettino dove vai? chi è questo cane? è un manucle ma no ora ti cambi questa maglietta levi lo levi il cane che dica di leva oh 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 ma guarda qui qua è tutto zioso tu chi sei? ma cazzo è stupido veramente stai rincognito ce l'abbiamo in forza vieni qua mi fai capire che dovete sfatuto oh è disimpertante eh è disimpertante è disimpertante oh oh ti fermi dai oh 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 cazzo fa mi sforchi ma questo è stupido ti siedi? chi siete? chi siete? chi siete? chi è quel cane? ma lui deficiente fallo uscire come si chiamano? ma stai scherzando spero che è un 118? oh ti siedi? vieni oh siediti non so chi sei sto scherzando è stupido che cos'è? devo chiamare il 118? che cos'è? è stupido è stupido è stupido è stupido io che ho fatto? hai sbattuto? voi siete bassi voi siete bassi siete bassi siete bassi siamo al 118? mi dite i bassi di noi? tu sei presa simone invece ma stai scherzando? oh basta toccarmi simone si nessuno a lui mi sta ricopiando simone qui siamo nessuno è pazzo fuori di testa simone non ti sei fatto niente ma stai fuori di testa è tutto sporco è solo simone entri dentro disiedi per favore simone si simone piacere fai che metti questo senti mi spieghi che cosa è successo nessuno tira le cose oh piacere simone vai scherzando va ma lui non risponde non sai risponde oh cintiii pazzo no albi non sto cambiando nel giro mi sta piacando chi è l'albi? albi? 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 oh mi dai una mano te come ti chiami? tu come ti chiami? oh ti siedi sedersi guarda d'acqua devi mettere d'acqua dai no no oh 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 che te senti mi spieghi cosa è successo si dammi perci oh lo sbattisacue ahhhh ahhhh simone tu sei la fanta e tu la ola ola ahahah fa un frecchio dove l'ha pregata cosa stai facendo? non mangia è un gatto, è un gatto, ti siedi certo, certo, quanto deve essere da un gatto che si batte qua anzi, io mi chiamo 118, sta più a panico a me sta panicando capisco di lui come ti chiami? Simone quanti anni hai? Simone chiamo la mucasa, te lo dico fai che vedere sei tutto sporco di sangue, stai a mangiare la cosa è giallo come la tua peppa si, giallo, è rosso come sta a casa mia non mi rioca lascia sto gatto che hai tante graffie, ho perso di te ti prego lascia muovere basta basta con sto gatto come si chiama lui? sei un po' rotto nei quadri Simone come ti gatti? 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 Simone abbiamo capito che sei abbiamo capito? sei veramente un oddio no sei un cretino so tre ore che ci sta a fare sta panto mima sei un cretino mi siete cagati sotto? no ti abbiamo preso veramente per un cretino è un cabloppo cabloppo è un cabloppo non è qui allora no Simone all'inizio sembrava vero poi è una certa che sbarbola cioè non sei in grado di fare pranka da solo ma non è vero ma Simone è una certa che hai cominciato a sbarbola ma lui è il gatto dai non è ricredibile stavi cagando sotto non è ricredibile mi chiamo al 118 idiota come ho pulito e pulito tutto perché tu hai mattina tolza il è di alberto sembravi morto quindi ragazzi per questo prank è tutto mi dovrei andare a fare la tozza e nient'ora Simone pulirò è sangue vero ti sei cagando sotto è nessuno hashtag nessuno e hashtag giallo gang ah ah Grazie.